Ben trovati agli appuntamenti con gli eventi sportivi in programma questa settimana in campagna. A Napoli, in occasione dell'incontro di calcio Napoli-Roma, in programma sabato 3 marzo alle 20.45 allo Stadio San Paolo, è attivo un temporaneo dispositivo di traffico lungo le arterie circostanti lo stadio. In particolare, il dispositivo prevede l'istituzione del senso unico di circolazione nel tratto di via Terracina, compresa tra via Caravaggio e via Nuova Cinzia, chiusi al traffico invece, via Gian Battista Marino, via Claudio, via Guglielmo Marconi e via Pietro Jacopo De Gennaro. A Benevento invece, domenica 4 marzo, in occasione dell'incontro di calcio, Benevento-Elas Verona, in programma allo Stadio Vigorito, è istituita un dispositivo di traffico a partire da 15 minuti prima della fine della gara e sino a cessate esigenze. È attivo il senso unico di circolazione, sino all'incrocio con via Vitelli in direzione Rione Libertà e dalla rotonda degli atleti in direzione della strada statale 7 Appia. Sono invece chiuse al traffico, sia veicolare che pedonale, le seguenti arterie. Via a lungo sabato Matarazzo all'altezza dell'incrocio con via Columbro, via Rivellini all'altezza del Palatedeschi, via Dotto delle Streghe nel tratto compreso tra via Benitorossi e lo svincolo con Trada Piano Morra. Per facilitare inoltre la sosta dei veicoli dei tifosi, sia locali che ospiti, sono predisposte una serie di aree arterie da poter utilizzare. Disponibili anche parcheggi ben distinti tra tifosi realocale ed ospite. E sempre domenica 4 marzo alle ore 15 invece in programma ad Avellino l'incontro di calcio Avellino-Bari. Dalle ore 13 e sino al termine della manifestazione sono chiusi al traffico via Narumma nel tratto compreso tra via De Gasperi e la rotatoria di Contrada a Moretta, via Zoccolari nel tratto compreso tra via Narumma e via Genovese, via Greco, via Feola e via Nazaro nel tratto compreso tra via Greco e Carpentieri-Tino. E con questo è tutto, grazie per l'attenzione.